Signori buonasera, vi ringrazio per essere venuti e soprattutto diamo un caloroso, affettuoso benvenuto a Charles Douglas, giudice della Corte Suprema americana, discendente da cittadini di Castelluovo nati qui nel 1836 e nel 1842 la madre, è venuto con il suo amore. I Baldi ritornano a Castelluovo dopo un secolo perché l'ultima volta che vennero fu nella primavera nell'estate del 1923 venne Carmine Antonio Baldi che era nato a Castelluovo poi viveva a Filadelfia ed abitava nella casa lungo il corso. Nelle foto che abbiamo messo c'è anche... Scusa. No, no, no. So they're very happy that you're back because a century ago in the summer of 1823 he came back, Carmine came back and he lived on Via Roma here, no? Where they showed you his house. And that was the year they tried to assassinate him in Philadelphia. Quello è stato l'anno che hanno cercato di ammazzarli in Philadelphia. I Rossi. Noi abbiamo ritrovato una foto della casa in quell'occasione. And they found a picture of the house in that occasion. Al balcone svendolava la bandiera italiana e la bandiera americana e credo per la prima volta a Castelluovo. Stasera il presidente della Prologo, che io ringrazio, ci ha accolto con la bandiera italiana. Ringrazio, dunque... Ringrazio il presidente della Prologo, architetto Attilio Leoni, e il sindaco di Castelnuovo, il dottore Eros Namai. Io poi mi riservo successivamente di fare l'intervento. Adesso siamo nella fase dei saluti. Il saluto a voi pubblico, ad Attilio Leoni. Buonasera. Consentitemi di porvi un saluto da parte di tutto lo staff della Prologo e da parte mia. Ringraziamo la ministra comunale, il sindaco, l'autore del libro, la giornalista Marina Galzerano e l'editore Giuseppe Galzerano. Tutte persone, per quanto rappresentano e hanno rappresentato questo territorio, rappresentano in campo culturale e letterario, conferiscono a questo appuntamento una dignitosa e un significato meritevole del massimo rispetto. Consentitemi solo una breve riflessione. Dettatemi dalla particolarità dell'opera. In primo piano, la definizione di un prezioso lavoro autobiografico dell'editore Charles Douglas. La ringraziamo per questa opera dove è meritevole di rispetto. Questa opera è molto significativa. Io ho guardato, ho visto qualche cosa, anche la sua immagine mi dice tutto. Ecco perché mi sento di dire che questo appuntamento un domani ognuno di noi può dire io c'ero. Questa fatirica frase che corre sempre in noi. Io c'ero, speriamo. Ancora auguri all'autore e un ringraziamento a coloro che meglio di me saranno a rappresentare tal intervento. Vi ringrazio di cuore della vostra presenza e speriamo di essere sempre presenti in tutto. La ringrazio. Passo la parola all'editore Charles Douglas. La parola al dottore Eros Lamaida, sindaco di Castelnuovo Vicente. Buonasera a tutti. Io sono onorato e ringrazio innanzitutto il presidente dell'Apologo per l'invito. Ringrazio il professore Garzerano anche lui per l'invito, per questa opera che ha realizzato. Ringrazio l'autore, il dottore Douglas naturalmente. Ringrazio la sua consorte e ringrazio tutti quanti voi. Un momento importantissimo come sindaco, come persona, come padre. Sono onorato e contento di essere qui. Perché la memoria, le radici sono fondamentali. La bandiera italiana con la bandiera americana. Sempre unite, sempre insieme nel corso degli anni. Di tutti quanti gli anni. Un solo si può dire un solo popolo, una sola faccia. Si può dire senza tanti campanilismi. Ma davvero sempre uniti. Da una sponda soltanto. Proprio italiano sempre nell'Europa con gli americani. Penso sia una cosa imprescindibile. E questo lo dimostra. Abbiamo una nostra figlia. Un nostro figlio. E una nostra figlia ancora più famosa. E ci fa onore. Ci fa onore. E io ritengo di poterlo dire in maniera molto, molto franca. che la nostra comunità, il nostro comune. Io personalmente come sindaco. Il nostro comune è ben lieto. È ben lieto quando sarà il momento. Di conferire la cittadinanza onoraria a Taylor Swift. Quando sarà il momento. Che verrà qua da noi. Perché verrà. Grazie. Il sindaco già vi ha anticipato il pezzo, come dire, forte di questa serata. E io rinnovo a voi il ringraziamento. Vorrei raccontarvi come ho scoperto. Stavo facendo una ricerca su... Una ricerca sulla vicenda di un emigrato italiano. Che nel 1920 fu ucciso dalla polizia americana. E consultavo dei giornali dell'immigrazione italiana. Perché gli italiani all'estero. E ho avuto anche testimonianze dell'Ottocento. A New York, a Buenos Aires, a Montevideo. Per quanto incredibile possa sembrare. Riuscivano a pubblicare un quotidiano. E fortuna volle. Il caso volle. Che mi imbattei nella libera parola. Un giornale quindicinale di Filadelfia. Dove mi attrasse una notizia. Perché mi sembrò di vedere tra le righe Castelluovo Cilento. Allora potete immaginare il balzo che io feci. E lessi che il 27 maggio del 1922. A Castelluovo Cilento era scomparsa Rosa Baldi. Ed è lì il giornale. Rosa Baldi di Castelluovo. Veniva compianta dalla comunità italiana di Filadelfia. Collegai immediatamente questo nome ad una tomba che io da ragazzino quando andavo al cimitero di Castelluovo vedevo con mio padre. Famiglia Vito Baldi 1888. Ed era una tomba dove non c'era mai nessuno. E questa cosa mi colpì. Poi ricordai che anni prima un signore mi aveva dato le fotocopie di un libro sulla colonia sugli italiani emigrati a Filadelfia. pubblicato nel 1906. Avevo notato delle cose e andai a consultare questo libro perché dalla lettura, dalla ricerca poi vengono le scoperte. e si parlava di Carmine Antonio Baldi che erano emigrati nel 1876. Era emigrato con il padre Vito Baldi. Aveva 14 anni e quando arrivò negli Stati Uniti aveva 40 centesimi in tasca. Che è una somma che oggi corrisponde a pochi euro. E così scrissi un articolo sulla parte italiana, sulla parte di Castelluovo dei Baldi. Però poi mi ricordai, scusatemi se vi faccio questo... Mi ricordai che a Filadelfia vivono delle mie cugine parenti da parte materna. Le mandai un'email e le dissi, per favore controlla nell'elenco telefonico perché probabilmente ci sarà qualche discendente dei Baldi che nel 1906 facevano queste attività. Lei mi rispose nel giro di mezz'ora, dice non ho bisogno di controllare l'elenco telefonico perché i Baldi sono famosissimi, hanno ancora oggi l'attività, questo è il loro indirizzo, questa è la loro email. E scrissi a Victor Baldi dicendogli questa email le arriva da Castelluovo ed è certamente un nome che lei conosce bene. E gli chiedevo una foto e mi mandò quella foto dei suoi genitori. Lì c'è Vito Baldi e Rosa Galzerano. È una foto fatta ad Eboli, non c'era il fotografo a Castelluovo, nel 1881. E quando il nipote Alfonso venne in Italia, non aveva mai incontrato, mai visti i nonni le foto, non sono come oggi che ne facciamo centinaia al telefonino. Si portò nella valigia quella foto per riconoscere i genitori a Castelluovo. Carmin Antonio Baldi, il fondatore, era nato a Castelluovo il 2 dicembre del 1862. Io ringrazio il comune perché l'altro giorno sono andato all'anagrafe, ringrazio anche gli impiegati dell'anagrafe che si sono messi a disposizione per trovare le date di nascita dei figli. E ho trovato anche la data di nascita di Vito Baldi che era nato a Castelluovo perché tu, Charles, scrivi che non sai dove era nato. Lei io allora ti fornì le notizie. Era nato a Castelluovo il 12 dicembre del 1836, mentre Rosa Galzerano era nata anche lei a Castelluovo, figlia di Angelo, sorella dei nostri bisnonni. Era nato a Castelluovo il 16 novembre del 1842. Si sposarono, ho scoperto, a febbraio del 1862. E se volete vi racconto a volte com'è difficile la ricerca. Avevo visto la data di nascita del 1862 e mi ero fatto un calcolo, dico si sarà sposata nel 1861. Consulto i registri certificati di matrimonio del 1861, non trovo questo matrimonio. Riconsulto nuovamente l'anno 1861 e non mi ero sbagliato, non c'era. Trovo che Vito Baldi aveva fatto il testimone in altri matrimoni. Consulto il 1860, niente. Consulto il 1859, nulla. E poiché a volte io nelle ricerche sono anche fortunata a trovare le notizie, mi dissi stavolta hai fallito. Stavo consegnando il volumone con tutti gli atti di nascita e di matrimonio del comune di Castelluovo in epoca borbonica. Quando fanno controllare il 1862 e nelle prime pagine trovai il matrimonio di Rosa Galzerano e di Vito Baldi. Naturalmente fui felice di questa ricerca e delle altre. C'era la miseria, l'unità d'Italia si era realizzata, ma per quanto strano possa sembrare, unità significa unirsi. Invece molti italiani dovettero scappare perché in Italia non c'erano le condizioni giuste per vivere, per sopravvivere. E anche da Castelluovo partirono in tanti. Partirono i Galzerano, partirono i Baldi, partirono i Faracchio. Anche una signora, una discendente dei Faracchio ad aprile è venuta a Castelluovo. E nel 1876 ci fu questo distacco perché Vito Baldi partì con Carmine Antonio Baldi e con il figlio Virgilio che aveva 12 anni. Ma le cose non andarono bene. Dopo pochi anni ritornarono a Castelluovo. Però Vito Baldi e Carmine Antonio Baldi sognava l'America perché anche allora era visto come il paese della fortuna, della cocagna, della ricchezza. E come tanti altri ripartì nuovamente. Stavolta fecero fortuna e nel 1885 Carmine Antonio, quel signore con i baffi lì, quel signore lì, si sposa. E sposa una nobile donna tedesca, Luisa Sorbeneir, che era sorella di un avvocato. Questo mi dà anche lo spunto per salutare gli avvocati che sono presenti a questo incontro. E immaginate, quest'uomo poi decide che deve portare sua moglie a Castelluovo e il loro primo figlio viene partorito qui a Castelluovo. E poi ritornano nuovamente negli Stati Uniti. Alfonso nasce nel 1886 e io sono stato contattato in questi giorni dalla figlia di Alfonso che mi hanno detto che il 31 agosto verranno per una visita a Lampo. Mi hanno chiesto di accompagnarli per Castelluovo, verranno per una visita a Lampo. E anche oggi Vito Baldi, Victor, mi ha scritto che anche lui verrà a settembre. Abbiamo, come dire, stabilito dei legami, un ponte, perché nella vita bisogna costruire i ponti, non bisogna costruire i muri quando sono necessari, vanno costruiti. I ponti uniscono l'umanità, perché anche noi abbiamo una storia terribile di dolore e di emigrazione. Immaginate Rosa Galzerano che ha suo marito e i suoi figli in America. Non ce li ha a Vallo della Lucania, a Roma o a Parigi. C'è l'oceano, c'è l'Atlantico per di mezzo e non c'erano gli aerei. Ritornare era costoso ed era difficile, però i loro rapporti li mantengono sempre. Nel 1000, Carmine Baldi ha intenzione di fondare un giornale. Non fonda un giornale qualsiasi, fonda un quotidiano a Filadelfia dal 1906, 10 febbraio se ricordo bene, quella è la prima testata dell'opinione, fino al 1932 viene pubblicato questo quotidiano importantissimo in lingua italiana. che, pensate, dopo sei mesi, tira, vende ogni giorno 20.000 copie. Qualcosa di impensabile, di straordinario. Ed è, voglio sottolinearlo, un cittadino di Castelnuovo, Cilento, che fa questo. Perché il Cilento ci riserva delle sorprese, ma anche il nostro paese. È una particolarità, dico a voi, agli amici giornalisti che sono presenti e che ringrazio perché hanno subito preso in considerazione il mio comunicato stampa. A questo giornale, poi ho letto che c'erano gli uffici moderni, bellissimi, i giornalisti erano giornalisti viaggiatori. Cioè, l'inviato di oggi è andato. E, naturalmente, ci sono anche articoli che parlano di Castelnuovo, perché il corrispondente di Castelnuovo era Gaetano Galzerano, mio zio, suo nonno. Oltre a questo, giornale importantissimo, che io ho avuto occasione di consultare dei numeri, li ho trovate online, però spero di poter consultare tutta la raccolta. Per trovare se è disponibile online, io sono un appassionato lettore dei giornali di cento anni fa, duecento anni fa, non lo sapevo, però alcuni numeri sono disponibili online. Vedete, il giornale 1906 usciva già con le foto. Io ho scelto la dichiarazione di guerra, ci sono i re che io non... sono lontani dal mio pensiero, non stimo, però... Cioè, io sono... Meno male che viviamo in una repubblica e, tra l'altro, anche Ibaldi furono repubblicani e un fratello di Ibaldi è stato per lunghi anni deputato al Parlamento americano. C'erano i rapporti con... Naturalmente, i rapporti erano intensi ed io, un signore, molti anni fa, ma non ci avevo fatto caso, era un nome qualsiasi, che tra l'altro non c'erano discendenti a Castelluovo, mi regalò una lettera di Vito Baldi del 1907 che scrive ai signori Compari e mi ha sorpreso, era un falegname, io immaginavo che fosse come la maggior parte dei cittadini di Castelluovo, semi-analfabeta, invece no, è una lettera che poi ti consegnerò, molto bella, straordinaria, ed è una lettera che probabilmente i figli, avendo la tipografia, gli avevano stampato Vito Baldi, Castelnuovo Cilento, lui ci metteva le date e scriveva. Questa è... No, assolutamente... Perché a me piace andare sempre ai documenti, io di fatti, se posso, vi dirò che appartengo a quella scuola di storici che se trova il documento scrive, se non trova il documento, non l'immagina, non pensa che cosa potrebbe essere successo. C'è un vuoto, nella vita ci possono essere anche dei voti. Questa invece è una lettera di Carmine Baldi, sempre del 10 maggio. Queste lettere erano state mandate ad una famiglia di Stella Cilento, che è il paese di fronte, dove vedi quelle luci, Zammarelli, in italiano. Ecco, qui c'è proprio al signor Cavaliere Raffaele Zammarelli, con il simbolo, per cui nella seconda edizione del tuo libro... E gli scrive, poi vi dirò, dice, io sono sempre disponibile per il caro Cilento, pieno di amore, affetto e coraggio, firmato Carmine Antonio Baldi. E' una testimonianza molto bella. E i rapporti con Castelluovo furono continui, perché grazie a Marina, grazie ad un suo quaderno di suo nonno del 1921, Io ho scorso tutti i nomi e ho trovato che quando fu costruito il monumento ai caduti, ai soldati nostri che per colpa del re andarono in guerra, i soldati, gli uomini, i poveri, non vogliono neanche oggi, non vogliono mai le guerre. Sono i re che li dichiarano, i governanti e poi ci mandano i poveri a scannarsi, le povere persone. E fu realizzato il monumento ai caduti. Naturalmente ci fu bisogno di raccogliere dei soldi. E i Baldi da Filadelfia una prima volta mandarono 800 lire, 1921 e nell'ottantunesimo elenco di quell'elenco mandano una nuova sottoscrizione di 1000 lire. Quel monumento possiamo dire che l'hanno costruito in parte i Baldi di Filadelfia, perché mentre gli altri davano 50 centesimi, un centesimo, loro mandarono 1800 lire, che sono una somma straordinaria calcolata con gli interessi di oggi. E noi dobbiamo essere fieri di questa storia, di questi uomini che noi non lo sapevamo, hanno portato il nome di Castelnuovo nel cuore, lo hanno portato negli Stati Uniti e come vi dicevo nei giornali si parlava di Castelnuovo e del Cilento. Le loro storie, la memoria, la memoria non va persa, va recuperata, perché ribadisco il concetto di prima, è necessario costruire dei ponti. E questi ponti ci possono, a volte ci portano sorprese straordinarie, perché il sindaco vi ha già anticipato, anche i giornali in questi giorni. Addirittura Tg1, sabato sera, nel telegiornale delle venti, che se volete potete vedere nel sito della RAI, ha fatto vedere Castelnuovo e ha detto che si è scoperta che Tyler Switt è originaria, discendente di Vito Baldi e di Rosa Galzerano. E suo zio, lei sa che lo zio è a Castelnuovo, per una visita brevissima, ma noi speriamo che ritorni, anche perché è restato, o almeno ho percepito, ho percepito che è restato affascinato da Castelnuovo, perché Castelnuovo, lo dico anche agli amici e alle amiche che sono venute da fuori, ha una posizione geografica straordinaria, vicino al mare, pianura da un lato e dall'altro lato, due fiumi, una posizione molto bella. Purtroppo, come tutti i paesi del Cilento, si sta spopolando, ma probabilmente Castelnuovo, quando è venuta d'aprile, poi è tornata a Filadelfia. Non so se tu l'hai incontrata, ma vi siete sentiti? Cateln? 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 Non so se non si conosce, perché disse che si sentiva. Lei ha manifestato l'intenzione con i suoi parenti di comprarsi una casa a Castelnuovo. e queste sono cose belle, simpatiche e questa famosa pop star americana che dopo un'ora che ha annunciato un suo concerto, i biglietti si esauriscono e ci vanno dagli 80.000 ai 100.000 spettatori. Ha manifestato l'interesse per Castelnuovo e probabilmente un giorno verrà a vedere il paese, le vie dove, e noi siamo felici che lei porti in alto il nome di Castelnuovo, il nome che sia una nostra compaesana. e io poi voglio ringraziare in maniera particolare Victor Baldi perché nel suo libro... perché nel suo libro... perché nel suo libro... perché è che Victor verrà anche noi... sì 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 sì... ... ... ... Il libro è molto bello, perché questo libro ci ha portato 6-7 copie di un'edizione italiana fatta all'ultimo momento, ma l'edizione è in inglese. Perché Charles fa lo storico, anche se fa parte della famiglia, scrive le cose buone con il distacco necessario dello storico, scrive le cose buone e purtroppo ci sono stati anche degli sfruttamenti da parte dei Baudi rispetto ad alcuni, a parecchi emigrati italiani. Il capitalismo, voi lo sapete, a volte se non sempre è disomano e cerca sempre di fare soldi. A me ci sono le pagine iniziali che parlano di Castelluovo. Le famiglie Baldi e Galzerano si riunirono quando Vito sposò Rosa Galzerano. Diede alla luce Carmine, Virgilio, Giuseppe, Guerino e Alfonso tra il 1862 e il 1886. I cinque fratelli Baldi, c'era anche una sorella, Angela, il nome non c'è ma il suo nome era Angela. Durante una visita di ritorno in Italia da parte di Carmine Antonio Baldi, la casa fu decorata con le bandiere d'Italia e d'America. Non è chiaro, scrive Douglas, dove si è nato Vito, ma adesso gli consiglieremo i certificati. Ma il centro di gravità per i Baldi era nell'Italia, nell'ordo, nel sud. Poi, la conclusione. In una riunione della famiglia Baldi, tenuta al circolo nazionale di Averton-Volnes, scusatemi ma io non conosco l'inglese, perdonatemi. Io ho studiato l'Esperando. Quando ero giovane pubblicai addirittura la grammatica della lingua Esperando. Erano in una riunione l'8 luglio 2016, cugini dell'Alaska si sono presentati per una serata di riunione familiare ricordando i fratelli venuti da Castelluomo Cilento un secolo e mezzo fa. Questo libro è dedicato ai discendenti di Baldi e Galzerani in tutto il mondo. Io ho certo di interpretare i sentimenti dei miei compaesani e degli uomini e delle donne venute anche dagli altri paesi del Cilento. A nome mio, a nome della mia famiglia, ti esprimo il ringraziamento profondo e sentito perché tu dopo 150 anni, dal 1876, ci onori con la tua presenza, con la tua visita a Castelluomo Cilento. Grazie. La parola a Charlotte. Grazie, cousin, and thank you, cousin Marina, and all my other cousins. Grazie anche da parte mia, Marina. Grazie, dice grazie a suo cugino, a tutti voi che siete i suoi cugini. This is basically the warm-up band for Taylor Swift. Dice che questo è come il preambulo per Taylor Swift. She will draw a much bigger crowd. Dice che verrà molta più gente per Taylor. I want to thank Eros, and I moved from Philadelphia 60 years ago to New Hampshire, and this is the seal of New Hampshire I want to present to you, and also to Atilio, and I thank you very much for this evening. Grazie molto per questa sera. E' stato operato alla gola un paio di settimane fa. So I'm going to try to read a little bit in Italian, che non sarà molto bello, ma che ci prova. In questo paese, nell'anno 1862, nacque un ragazzo, Davido Boldi e Rosa Galserano. Per fuggire dalla miseria dell'Italia a 14 anni, salì su una nave e salpo per l'America. Aveva 40 centesima in tasca quando ha iniziato a vendere limoni di un carretto nel centro della città. Due anni dopo, torno in campagna per cui ricevete la notizia che doveva prestare servizio nell'estercito. E dice che così è come può parlare lui, perciò adesso passa a Giuseppe il resto di quello che ha scritto per leggere. Io chiedo a mio cugino Giuseppe di leggere il resto perché la sua gola non ce la fa. Sono io che ti ringrazio, mi sapevo, mi spiace per il tuo intervento e ti facciamo i migliori auguri per un'immediata guarigione. Allora io mi limito a leggere, dopo un anno di servizio militare, tornò in America e aveva studiato l'inglese abbastanza bene da diventare un interprete per gli italiani nei tribunali. Il giovane Carmine Antonio Balti aggiunse Charles al suo nome in modo che fosse conosciuto come Carmine Charles Antonio. Dopo che i lavoratori italiani hanno scioperato nel paese del carbone, Carmine Antonio Balti è stato assunto per tradurre e negoziare la fine dello sciopero. Perché aggiungo io, aveva una predisposizione per l'inglese. Mentre era nella regione del carbone, trovò una cava di ghiaia, di pietre. Ho fatto una domanda alla compagnia ferroviaria, 1880, costruivano le ferrovie. Anche la ferrovia a Vallo Scalo fu inaugurata il 13 maggio del 1887, per cui sono gli anni dell'espansione. Dicevo, riprendo la lettura, scusatevi, ha fatto una domanda alla compagnia ferroviaria. Se avesse fatto in modo che gli operai italiani usassero la ghiaia invece del carbone da mettere sotto la ferrovia, sotto i binari, avrebbe potuto dargli il carbone. Ciò diede inizio alla società Balti, a Fratelli Balti, perché erano emigrati anche gli altri fratelli. Rosa Galzerano restò completamente solo. Alla compagnia dei Fratelli Balti a Filadelfia Meridionale. Lui e i suoi quattro fratelli, i quattro fratelli minori, hanno fondato una banca. La banca Balti era famosissima. Un'impresa di pompe funibre, una società immobiliare e il più grande giornale in lingua italiana, l'Opinione. Dall'Opinione poi nacque, fu venduta l'Opinione, Vito Baldi morirà nel 1900, Carmine Antonio Baldi muore nel 1930 e nel 1932 i suoi eredi vendono l'opinione. Adesso c'è il quotidiano America Oggi, sulla quale anch'io ho collaborato, ma adesso l'hanno chiuso. L'articolo che feci sui Baldi, oltre che sulla città di Salerno, fu pubblicato anche dal quotidiano America Oggi. Con le sue connessioni politiche, ha consegnato voti a Filadelfia per posti di lavoro per gli immigrati italiani, soprattutto gli immigrati che provenivano dal Cilento. che scrive Douglas, che provenivano in gran parte dal sud Italia. Carmine Antonio Baldi è stato il primo italiano in Pensilvania a occuparsi, e qui è una società che loro avevano fatto. No, lui è stato presidente del Board of Elbrown News, che sono quelli che fanno delle pompe funghi. A proposito dei presidenti, vi dirò il più. Sapete, gli emigrati si riunivano tra di loro e molte società furono fondate in molte società, una società degli emigrati di Acquavella. Acquavella è un paese vicino a noi. Nel libro c'è scritto che gli italiani non volevano essere, erano superstiziosi, ripeto quello che c'è scritto nel libro, e non lasciavano che altre cittadinanze lì chi mettessero, insomma, facessero le bombe, che non so. Allora volevano solo italiani. Sì, e di fatti furono create, vi dicevo, questa società degli emigrati di Acquavella, della quale era presidente Carmine Antonio Baldi, e un'altra società di Santa Barbara, Ceraso, di cui era presidente anche Baldi. Per il suo successo fu nominato cavaliere dal re Vittorio Emanuele III nel 1907 e in seguito fu nominato cavaliere dell'esercito italiano. Carmine Antonio Baldi era conosciuto come il re, e di fatti king, re della piccola Italia, e questo libro è dedicato alla sua memoria e a questo paese natale. Grazie. Carmine Antonio e io condividiamo il compleanno comune nel secondo dicembre, sei nato anche tu il 12 dicembre. Bene, felice coincidenza. Sono nato 80 anni dopo la sua nascita, quindi sono sempre stato affascinato dalle storie di famiglie sulla sua vita. Durante l'epidemia di Covid ho finalmente avuto il tempo di unirmi a due cugini nella scrittura di questo libro, nella redazione di scrittura di questo libro. Uno che ha aiutato con molte fotografie e storie è Victor Baldi, il terzo che è la quarta generazione come capo della Baldi Funeral al sud di Filadelfia. L'altro è il mio cugino di primo grado, Douglas Baldi Sweet del Texas, che fornì centinaia di articoli e di giornali sui fratelli Baldi di Castelnuovo. è lo zio della pop star Tyler Roswitte. Mia moglie è la signora Debra ed io siamo molto felici di aver avuto del tempo con Giuseppe Galzerano, il pro-nipote di Rosa Galzerano, la madre di Carmine Antonio Baldi. Grazie Giuseppe. Grazie. Scusatemi, ma in questo momento non sono io. Grazie Giuseppe per questa serata in onore delle nostre famiglie e di questo paese. Il libro è stato tradotto in italiano e ne ho portato alcune copie per farvele leggere. Mentre la traduzione contiene alcuni errori, puoi almeno ottenere l'essenza di una storia vera su alcuni figli e una figlia della tua città, di questo paese. All'età di 80 anni ho realizzato il sogno di essere ascoltato e di camminare sulla stessa terra che Carmine Antonio Baldi e voi calpestate. Vi saluto. Ringrazio la Proloco e il Presidente Attilio Leoni per l'accoglienza e per aver organizzato questo incontro e il Sindaco Eros Lamaida per il saluto di benvenuto insieme a tutti voi che mi avete onorato della vostra partecipazione e del vostro ascolto. Sei tu che è onorato. Adesso tra il pubblico c'è la signora Alina Pinto professoressa professoressa e poetessa che ci vuole leggere una poesia sull'emigrazione. E anche nella famiglia di Lina ci sono stati gli emigranti come in tutte le famiglie meridionali. I fratelli di mia nonna di mio nonno c'è mia cugina Marinella la saluto erano in sette quattro andarono in America adesso sono diventate centinaia. E' una nostra parente è venuta è andata in pensione e ha scelto di vivere ad Acquavella Io sono una qualsiasi discendente di emigranti e i miei nonni emigrarono verso Philadelphia nei primi del novecento mia madre nacque lì poi tornò in Italia che aveva tre anni la sorella di mio nonno negli ultimi anni dell'ottocento aveva venti anni era incinta di tre mesi e partì verso l'America non ricordo se l'America del sud dell'America del nord comunque morì lungo il viaggio evidentemente non ho mai capito perché ma io immagino per lo strazio della traversata una incinta di tre mesi e ho pensato sempre allo strazio delle partenze dei gommiati ci ho pensato a lungo e mi è venuta fuori una poesia in dialetto mi dispiace che voi tutti la capirete ma lui no sicuramente 27 marzo che giornata oi mamma mia che casa reputata baugli aperti panni strrecchiati l'anzola in terra lietti sconsucati rosa come la pace e non ti arreto lo passaporto ma chi l'ha pigliato la mamma ha presa a chiancio sconsolata figlia dove non vai t'è giù perduta tozzolano stai saliendo l'onna Teresa porta una miraglia del San Biasi la penna inganna a nonna e poi la vasa ma nonna stai pensando a una cosa quando non c'è nessuno calavere essi inta l'urto zomba per lo muro inta lo scuro impiera la cerasa la mura e chiula stai aspettando Biasi marito con un'unica la ola la vai a scontà e non dice una parola la luna saglie l'oce non lo fronne citto citto non nella stai piangendo e a cui si parti non ci posso creere ma la si solo non ne tieni core che da già rice tata a cui si vuole ma si bene vieni tu puro se lo poteste farvene sapere ma tu lo sai per me è zongelo mari lo mare è funne e granni granni assai chi mai lo può passare senza renari e rosa chiama nena addosighiuta chiamo speciate l'ora è già venuta cala la capo nena e si ritira chi potere c'è un bietto che dolore bia si s'assetta in terra solo solo guarda che la funestra è in dallo scuro la luna l'oponente sta in scendendo piange il biasuccio che ha perduto a nena lo quattro in dallo vico non è vuoto sbattono porti studiano le luci sotto la grana gli andi a brazzi vasi gli amo che è tardo sa da parto è rosa scendono cito cito po' lo vico con i baugli e le balici in capo passano sotto all'orto gli baroni pigliano po' la via casaline e rosa guarda l'orto rizzo lena guarda lo scanno un bier allo limone che belle serendie in buon stagione affacunti allo fresco tutti insiemi la muscetria d'oracqua non salata e attorno c'allegria quanta risate piange rosina un bietto un geno gli uovo lo sai che l'assi è chi lo sa che trovi biassi in cima lo mura appesolato guardano nella sua l'ultima vota nena che stai girando lo cantone saluta e faccio segno con la mano indamare la luna muscala l'ultima stella angelo trammulea biassi colo frittino lo core verso la casa torna solo solo e già rosse alevante e matutino i amo biassi sa dai la giana è nato giorno sa dai a zappà rolo lo core ma sa da campà grazie a giuseppe grazie a tutti voi scusatemi ma a volte anche nelle migliori organizzazioni ci sono dei contrattenti io con il permesso del sindaco come vi dicevo prima ho fatto la ricerca dei certificati di nascita dei baldi dei fratelli baldi anche di rosa calzerano del matrimonio e al comune avevamo preparato una cartella il sindaco donava il segno di benvenuto e di amicizia i certificati degli andinati di du ma non sono arrivati ma arriveranno nel corso della serata chiediamo scusa per questo contrattempo altrimenti ti saranno inviati online per ricordare questo evento il presidente della prologo architetto attilio leoni conseglierà una targa credo a charles abbiamo l'onore di conferirgli questo piccolo segno questo gesto che ci porta un augurio ricordando Castelnuovo grazie per la vostra presenza grazie grazie cittadino e merito degli stati uniti d'america con le radici a Castelnuovo Cilento salerno prologo Castelnuovo Cilento Galzerano editore Castelnuovo Cilento 9 agosto 2023 grazie 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 per essere venuti grazie dove il suo bisavolo ha camminato 150 or so years ago I know they came back in 1923 so che sono tornati nel 1923 because the house on Via Roma had the two flags just like this pin in my lapel my wife Deborah and I appreciate all of you coming out and maybe the next time I come back my Italian will be better e forse la prossima volta che tornerà il suo italiano sarà migliore io rinnovo il mio ringraziamento al sindaco, a voi tutti, al presidente della Proloco e particolare a Douglas che è venuto a Castelnuovo per presentare il suo libro e per visitare il paese consentitemi anche di ringraziare con un abbraccio forte a Marina perché senza Marina noi stasera non ci saremo inglesi e quando glielo dissi non avevo nessun dubbio immediatamente disponibile adesso non andate via perché la Proloco vi dicevo il cilento è ricco di sorprese la Proloco ha preparato un buffet con dei prodotti locali mozzarella, capicollo fatto dai condadini di Novi e pane e cannolo grazie